La giornata è convocata per la giornata di mercoledì 28 marzo alle ore 11. Unico. Restituire certezze, sicurezze e tutto qualità. A partire dall'economia reale, a partire dal lavoro, sono troppi gli italiani che non hanno occupazione, soprattutto tra i giovani e in particolare nel mezzogiorno. L'industria 4.0 cambierà nei prossimi anni l'approccio al gruppo dell'obiettivo. Applausi. 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 Grazie.